Si fa sempre più ricca l'offerta della gamma Land Rover Defender con il modello lussuoso 130 Outbound, una combinazione di spazio e capacità all-terrain. Disponibile esclusivamente in allestimento a 5 posti, consente a chi ha uno stile di vita attivo e avventuroso di mettere nel bagagliaio tutto ciò di cui ha bisogno. La 130 Outbound offre l'opportunità di affrontare qualsiasi terreno in un comfort superiore, con interni presentati appositamente per ospitare tutto ciò che, chi ama l'avventura, può desiderare. Massima espressione della Defender, è disponibile esclusivamente in versione 5 posti e una capacità del bagagliaio che arriva fino a 2516 litri, rendendo più facile ogni avventura. Il suo vano di carico praticamente piatto ospita facilmente tutto, dalle mute all'attrezzatura da campeggio e da arrampicata. Il paraurti e l'inserto della griglia presentano un look discreto e deciso, con finitura Shadow Atlas Matte, mentre le prese d'aria laterali sono rifinite in antracite. Per completare il design di Outbound, sono disponibili cerchi da 20 pollici rifiniti in Gloss Black e cerchi da 22 pollici in Shadow Atlas Matte. Il Fuji White, il Santorini Black, il Carpassian Gray e Liger Gray compongono la palette colori, mentre i pannelli posteriori, in tinta di carrozzeria come le finiture del montante D, completano i miglioramenti esterni. Per chi necessita di una resistenza ai graffi maggiore per uscire dai sentieri battuti, è disponibile il Satin Protective Film. Per gli interni, si può scegliere la lussuosa pelle Windsor o il tessuto Resist. Aree supplementari di stivaggio mantengono al sicuro i piccoli oggetti nascondendoli alla vista, mentre i punti di ancoraggio aggiuntivi e la nuova rete da carico consentono di assicurare saldamente durante la guida una varietà di attrezzature da outdoor, grandi o piccole, per disporne prontamente all'arrivo. La Defender 130 Outbound è disponibile con propulsore D300 Diesel Ingenium che dispone della tecnologia Mild Hybrid.